in un nuovo video, io sono Millie, anzi meglio dire Melissa e oggi giochiamo a Roblox a questo acquapark più grande della città se volete la mia amicizia di Roblox ragazzi, io mi chiamo Jesse con la J e la Y Jesse strattino basso, Millie con la Y finale official con la O piccola tutto attaccato, quindi ragazzi mi scrivete nei commenti come vi chiamate, se volete la mia amicizia voi mi mandate l'amicizia e io l'accetto allora per prima cosa direi di fare questo scipolo tutto colorato che mi sembra bellissimo, quindi cominciamo oddio mi sono bloccata allora, vediamo di qua cosa c'è questo scipolo, ah no si parte da di là, bene allora vediamo qui che altro scipolo c'è vediamo, vediamo, vediamo però vorrei fare uno scipolo che va nell'acqua ok questo viola in bianco ecco qui, partiamo da qui allora qui penso che ci, ecco il confiabile però io ne sono una, non siamo fatti non fa niente, cominciamo vediamo mamma mia ragazzi gira pure ehm ok monetina perfetto prisa ragazzi ogni moneta che prendete è 10 euro quindi penso ora ho 20 euro ma siamo abbiamo posti i soldini ragazzi eh dai ok vediamo qui dove finisce wow bellissimo ragazzi davvero bellissimo meno male che in questo gioco cioè roblox so nuotare perché nella vita reale diciamo che so nuotare ma non proprio tantissimo come in questo gioco allora vediamo da quest'altro lato che scipoli ci sono potete mettere sia la modalità piano sia la modalità veloce per camminare io ho messo quella veloce per fare prima poi non so allora siamo ritornati all'inizio e quindi vediamo qui che scipoli ci sono perché giustamente siamo tornati all'inizio dobbiamo dire che scipoli ci sono allora questo azzurro qui non so se lo vedete è davvero bello ora lo proviamo a fare allora passiamo sotto allo scivolo verde si entra da di qua vero? vediamo non so però penso di sì quindi forza veloce veloce sì si entra da di qua perfetto si entra da di qua e qui cominciamo wow è bellissimo questo scivolo è trasparente si può vedere tutto e poi ragazzi io non so come fanno i scivoli a mantenersi ma voi lo sapete? ok con queste strisce si cioè con queste diciamo gambe però però mi fanno a costruirle così a volte penso con la scala ok ragazzi proviamo un altro scivolo voglio provare questo che va sott'acqua quindi penso che si sale da qua vediamo penso di sì però sì sì ecco qua questo è quello che va sott'acqua quindi ragazzi vediamo wow è trasparente va sotto quasi però non finisce no però è carino ok da qui si sale vabbè qui c'è la cosa per il bagnino e ci possiamo anche teletrasportare io direi andiamo in spiaggia perché sì ragazzi guardate c'è la spiaggia eccola questa io mi prendo un ombrellone ecco qua visto anche se non è proprio fisso secondo me ah mi rilasso un po' dopo che mi sono rilassata vado un po' a farmi un bagno sperando che non ci sono pesci che danno fastidio ok ragazzi mi sono rilassata un paio di minuti oddio dove c'è una barca bellissima ah ragazzi ma il mare è proprio pulito non c'è nessun pesce allora noi speriamo le boe andiamo in riva perché io sinceramente quando non ci tocco oppa bura mi metto qua proprio alla riva perché questo mare è subito profondo cioè se tipo passi questo cioè è profondo perché se vuoi mettere sui piedi magari che hai mangiato però vuoi rispondere di rinfrescarti un po' magari ci metti così però ecco vedete subito superi questo è subito è profonda quindi io direi di rimanere qua altrimenti è troppo profonda per me perché non ho paura quindi rimaniamo qui un po' di tempo ovviamente ragazzi non troppo tempo altrimenti poi eh eh no eh no troppo tempo oddio mi sono capovolta ok allora ragazzi proviamo a seguire su questa roccia no wow sono la regina della spiaggia la regina allora quindi io non ho mai capito questa è sabbia sì ok scusate devo fare un saluto ma non mi è venuto wow allora vorrei provare questo azzurro da dove si sale da qui un attimo adesso sto vedendo sì ok perfetto allora andiamo se si parte da qui cioè si sale qui e poi indica il cartello scivolo d'acqua quindi saliamo ecco qui e penso sia questo quindi prendiamo il gonfiabile ci sediamo e andiamo vai scendiamo questo penso sia davvero bello come scivolo vediamo è proprio divertente ragazzi no vabbè è trasparente è bellissimo però sarebbe più bello farlo in compagnia con gli altri però è davvero bello ragazzi ma alla fine bellissimo ragazzi bellissimo ok bene ragazzi direi se il video vi è piaciuto iscrivetevi io intanto continuo a fare scivoli meravigliosi ovviamente non salendo da qua perché non ci fa salire vedete dobbiamo fare così ovviamente però non si sale mi raccomando non salite dagli scivoli al contrario perché vi fate male se ci sono altri bambini che stanno scendendo e poi soprattutto se scivolate quindi ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete mi piace condividete il video e noi ovviamente commentate con il vostro nome di roblox e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao questo è il mio nome non ho vedete non ho amici quindi se volete la mia amicizia mi raccomando commentate con il vostro nome di roblox questo è il mio ciao ciao